Questa è la stazione dell'aeroporto. Il suo bagaglio, signora. Sgombrare la pista! Arrivo per l'atterraggio! Donnie! Dizzy! Prepararsi al decollo! Dizzy, aspettami! Il tempo sta peggiorando! Dizzy! Dizzy! Oh no! Abbiamo perso il segnale! Mandiamo subito l'elicottero di emergenza! Li troverò! Fai attenzione, Paul! Donnie! Donnie! Cos'è successo? Stai bene? Mi fa male la testa! Dobbiamo uscire di qui! Non riesco a decollare! Nemmeno io! Niente panico! Proviamo ad accendere un fuoco! Ottima idea! Trasformazione! Dizzy! Dizzy! Resisti! Afferra il bastone! Donnie! Ah! Ah! Donnie! 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 Il serpente! Ah! 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 Parisci! Via da qui! Tu riposa! Io accendo il fuoco! Sì! Ora sicuramente verranno a salvarci! Ah! Sì! Possiamo andare a casa! Sì! 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 Guarda! C'è qualcuno sulla nostra isola! Ah! Che sta succedendo? Cos'è questo? Presi! Ora ci divertiamo! Arr! Arr! Lasciatemi andare! Lasciateci andare! Arr! Starete qui per un po'! Aspetteremo! Aspetteremo la nostra nave e li porteremo con noi! Ah! Non voglio andare coi pirati! Non preoccuparti Dizzy! Devono aver visto il fuoco segnalatore! Polla quartier generale! Polla quartier generale! Li ho trovati! Sono stati catturati dai pirati! Aspettami! Sto arrivando! Lasciateci andare! Ah! 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 Nessuno verrà aiutarvi! Ah! Cos'è? Ah! 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 A lì! Ah! Zaph! Ah! Grazie per la visione!